Magnifica, magnifica, magnifica d'anima vera, dominum, magnifica, magnifica, magnifica d'anima vera. Carissime consorelle e carissima famiglia Oriolina, siamo qua tutte unite, radunate vicine alla Madonna a conclusione del nostro dodicesimo capitolo generale e vogliamo offrire a ognuna di voi il nostro augurio, il nostro saluto e il nostro ringraziamento. Carissime tutte della famiglia Oriolina, sacerdoti, suori, laici, collaboratori, volontari, nostri destinatari, vi ringraziamo per averci accompagnato con la preghiera. Abbiamo sentito che lo Spirito Santo ci ha accompagnate e ci ha dato la possibilità di vivere in un clima di fraternità, di gioia, di serenità. Desideriamo che questo clima continui a crescere sempre di più nella nostra famiglia per essere testimoni di un mondo nuovo e fraterno, secondo il cuore del nostro Padre fondatore e secondo i desideri del Santo Padre, perché possiamo essere per la Chiesa e per il mondo profeti di una nuova umanità. Saluti a tutti, a tutti e Ave Maria e a Vanna. Pane siostry prowincji polskiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, bardzo dziękujemy za wsparcie modlitewne, za wszelkiego rodzaju przesłania oraz za prace wykonywane wielokrotnie również i za nas. Pragniemy podzielić się z Wami przede wszystkim przesłaniem Ojca Świętego, które było punktem kulminacyjnym. Papież Franciszek zaznaczył, że mamy być ludźmi pośpiechu, jako ikonę, pozostawił nam ikonę nawiedzenia, ale mamy odznaczać się tym pośpiechem nie światowym, ale pośpiechem Bożym, z przesłaniem ewangelicznym, że tylko Bóg jest miłością. Kochane siostry, z sercem przepełnionym radością, pomimo różnych napotykanych trudności, i idźmy do współczesnego brata i siostry z nadzieją, która rodzi się ze spotkania z Jezusem. Za wszystko, co dokonało się podczas tej 12. kapituły generalnej i jej owoce w przyszłości, wyśpiewajmy Bogu wraz z Maryją radosne, pełne ufności i wdzięczności i magnifikat. Cieszymy się oczywiście z wyboru, z ponownego wyboru Matki Generalnej, Matki Maver Spaniolo i całej Rady Generalnej, i w tym naszych dwóch sióstr Polek, siostry Marii Sylwii Zagórowskiej i siostry Marii Józefy Kalinowskiej. Za wszystko, co dokonało się w tym czasie, Bogu niech będą dzięki. Llamadas por vocacion a ser pequeñas hermanas misjoneras de la Caridad, cada una de nosotras somos conscientes de que es Jesus quien nos llama y envía. El es el centro de nuestras vidas consagradas a la evangelización y como María, queremos ponernos en camino, llenas de alegrías en el corazón, cantando nuestro Magnífica. Anunciar a los hombres y mujeres de hoy que Dios es amor y puede colmar el corazón de quien lo busca y se deja encontrar por él. gracias a todos aquellos que con su oración nos acompañaron. hermanas y hermanas, querida familia orionita, espalhada pelo Brasil, pelo Cabo Verde, estamos aqui como delegação brasileira, presente nesse capítulo geral da nossa congregação religiosa, per agradecer la presenza di tutti i loro durante questi quasi 30 giorni di capítulo in cui vivemo così con tanta intensità con tanto amor con tanto spirito di famiglia tutti i giorni in ogni momento del nostro capítulo di orazione, di estudo e queremos agradecer di coraggio per le messaggi che arrivano per noi, perché sono molto presente con noi e che Dio ci aiuti questa nostra orazione che possiamo con voi share tutto quello che vivemo qui durante questi giorni molto grazie a tutti prima voglio dar grazie a Dio nostro Padre che ci ha permitito celebrar este duodécimo capítulo general tan importante per una famiglia religiosa grazie a Dio E ringrazio anche a tutte le hermanas che ci hanno accompagnato durante questo capítulo con loro orazione e il sacrificio. A tutti i laici, a tutta la nostra famiglia religiosa. E pido al Signore che il Spirito Santo, che ci ha fatto vivere davvero un tempo di cairos, di alegria, di encuentro, possa continuare con noi, per essere davvero piccoli hermanas misionerati della carità. Discippoli di Cristo, misionerati della carità di Cristo nel mondo. Ha stato un tempo in cui abbiamo mirato il nostro camminare come congregazione, lo abbiamo evaluato e con molta humildazione possiamo dire che abbiamo construito una gran storia. Però il Signore ci ha chiesto a vedere il futuro con coraggio, con esperanza e con fe. A non tenere bambini, perché ha venuto il mondo. Nos proiettiamo con questa forza per seguire avanti. Agradezco anche a la Madre General, che mi ha sorprendito con la sua sabidura, con la sua obiettività e apertura a i nuovi tempi. Constantemente nos invitava a lasciare le strutture, esos odres che nos separano di nostri hermanni. Nos invitava a essere odres nuovi, per ricevere tutto ciò che Dio vuole depositare in ogni una di noi. Per essere davvero le donne di Dio, per essere tutte del prossimo. Ave Maria e... Adelante! Adelante! Bello! Madagascar! Andiamo alla Cöhne! Aspettare. Noi con tutti gli domuhi togliamo, poi ho ragazza e ho origini. Mi sono bemegno nella平na acutita con la sua famiglia. C kochina sempre clispera, ho racconto con questa f üst, per sicuramente nel nap kingdom. Inναmetà毋... Non è una Saxchossera nel genere in modo versere sta succedente. E anche, as imparago sono tre mes хорошate, non è ancora considerate, mi ha a guitararmi secTONI Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 abbiamo avuto molto. Quindi voglio invitarmi tutti voi, come il nostro motto ha detto, di dare loro completamente, in modo da essere tutto per il niente. Lettiamo vivere questa promitazione di nostro padre, e Donorione, da l'Evano, potrebbe essere benvenuto a tutti noi. Quindi voglio ringraziare tutti voi, e voglio ringraziare tutti voi. Lettiamo vivere sempre uniti. Quindi, grazie mille, e grazie mille e onward. Grazie a tutti, a voi, miei sœurs e miei fratelli, Mbukina, Atogor, e Costantavorio. Grazie a Dio per averciato questa opportunità di fare questa esperienza di fraternità e di la connessione di mia famiglia religiosa. Grazie a Dio per l'accompagnamento che abbiamo ci dato a questo momento di la maggio. Il Signore ci ha accompagnato e siamo capati di fare quello che vuole. Ora, a voi, miei sœurs. La nostra vita è una donna. La nostra vita è una donna. Abbiamo chiamato a essere mati per l'amore, per essere realizzati, per essere il Signore di voi, per essere il Signore di noi. Io vi ho detto, noi siamo le missioniere senza frontiere. tutti noi dovrebbero essere conduziti per l'Esprit per rispondere a questo appello di Papa François. Io vi ho detto grazie ai miei generali e ai consigli per questa fiducia che mi ha fatto, per mi chiamare, per te presentare. E io spero che voi siete tutti convaincati che io ero capace di fare la volontà di Dio. Grazie Ave Maria avanti. Grazie. Grazie. e essere completamente di noi brosso e sister. Paràmen salamat po sa i gnom panalami. Carissime consorelle, ho la gioia anche in questo momento, insieme al gruppo delle consorelle capitolari, di presentarvi il nuovo Consiglio Generale. Sol Maria Silvia, che tutti già la conoscete, la Vicaria Generale della Polonia. Sol Maria Irma, Consigliera Generale, che viene dall'Argentina. Sol Maria Françoise, che viene dal Madagascar, Consigliera Generale. Sol Maria Rosa, del Capo Verde, Consigliera Generale. E la nuova Economa Generale, Sol Maria Iusefa, che viene dalla Polonia. Per tutti loro, e anche per me, chiediamo tante e tante preghiere, perché possiamo essere fedeli a questo servizio che la congregazione, attraverso tutti loro, ci hanno affidato. dificilizzare, che viene dalla Grazie a tutti.